buongiorno a tutti allora non riesco a dormire quindi io dormicchiato poi proverò ci proveremo d'altronde ripeto siamo rintanati in casa h24 quindi si sclera e si sclera e non si vede la la fine però purtroppo così è se vi pare come diceva qualcuno io fortunatamente mi posso mi sfoghere mi posso sfoghere coi video tanto li guardano in quattro gatti a un canarino però fa niente basta che lo guardi uno cerentano cantava anni fa il cantante più pazzo che c'è è chi canta solo per sé quindi basta che anche solo una persona vede i miei video io sono contento quindi detto questo ho visto questa bellissima lettera chiamiamola lettera che ho trovato su facebook che ha condiviso una mia amica e ve la voglio leggere perché mi è piaciuta particolarmente riguarda proprio questo periodo e vado a elencare elencare mi è venuto elencare dai passatemelo vediamo cosa c'è scritto tra qualche anno ci ritroveremo tra le pagine dei libri di scuola e non so cosa verrà scritto ma so cosa ricorderò ricorderò che gli italiani sono stati definiti untori da paesi come la germania da cui proviene il paziente zero e del quale ha bentaciuto l'esistenza ricorderò ai francesi che ci hanno deriso poco prima di puffare il virus puffare capisci a me degli americani che ci vogliono dare lezioni mentre devastano gli altri paesi e lasciano morire i loro connazionali che non hanno l'assicurazione per curarsi ricorderò anche gli italiani che scappano impauriti quelli che non rispettano le direttive e quelli irresponsabili ma soprattutto ricorderò a quelli che non si sono potuti fermare un attimo neanche volendo medici infermieri oss che sarebbero le quelli appena sotto gli infermieri ecco forze dell'ordine vigili del fuoco farmacisti e parafarmacisti mi ricorderò dei commercianti e dei professionisti che invece hanno deciso di chiudere solo per coscienza civica rischiando di non sopravvivere economicamente gli insegnanti di tutti i livelli gli educatori e genitori che cercano di orientare orientarsi in questo caos della generosità di chi ha donato in favore degli ospedali mi ricorderò di un paese come la cina che molti abbiamo sottovalutato darci un esempio incredibile di ine efficienza e disciplina è una prova di solidarietà e generosità veramente grande che in pochi si sarebbero aspettati chissà se i libri di scuola racconteranno della vigliaccheria dell'europa dei tagli che abbiamo fatto alle colonne portanti del nostro paese per ingrassare le casse di quei paesi che ci hanno letteralmente presa calci nel sedere quando tutto sarà passato perché passerà si spera ricordiamocelo tutti quanti che ci siamo rialzati nonostante gli sgambetti rialziamo la testa e tendiamo la mano solo a chi ce l'ha tesa agli altri che resti solo uno stimale da guardare lucidare e che sia tricolore naturalmente ecco magari lo stivale tricolore loro non sono neanche degni di illustrarcelo detto questo io mi auguro che al termine di questa questione l'italia prende atto che questa europa ci sta semplicemente prosciugando se ne frega altamente gli abbiamo chiesto aiuti ci hanno detto sì sì vi diamo tutto quello che volete con naturalmente 10 miliardi ma 10 miliardi naturalmente al 200 per cento di interesse perché è libidine mica ve li regaliamo cosa pensavate che ve li regaliamo anziché del 300 per cento vi chiediamo solo il 200 per cento di interno vi preoccupate tanto voi avete il debito fisso così tutti gli anni ci date fior di miliardi di interessi sì ma scusate noi vi abbiamo dato dei soldi anche perché noi ve li prestiamo così voi ce li ridate ci pagate gli interessi quindi signori miei sarebbe ora che si faccia euro asia con russia e cina almeno le nostre ma purtroppo non lo faremo mai perché le nostre aziende ormai le abbiamo svendute la maggior parte delle nostre migliori aziende se le sono bambate i francesi tedeschi e quant'altro in più la cosa preoccupante ci sono in giro gli americani siamo in piena emergenza coronavirus loro vanno in giro belli tranquilli per l'italia a fare esercitazioni i casi sono due o sono aspiranti suicidi che hanno voglia di prendersi il coronavirus pure loro tanto sono nevi sin nati per morire quindi se ne frega o hanno già il vaccino gli hanno già vaccinati da coronavirus possono permetterselo o se no siccome probabilmente quando finirà tutto sto casino è probabile che l'italia renda conto all'europa di tutta questa situazione gli faccia capire o qua cambiano le regole o ce ne andiamo fuori dalle scatole perché l'ultima notizia che ho visto è che la germania intende spendere 550 miliardi per l'emergenza se non sbaglio una cifra enorme e ha già detto noi facciamo così ce ne sbattiamo altamente dell'europa ecco io l'ho detto l'altro giorno quando è nata all'europa che ho detto signori all'italia è stato imposto le 1936,27 lire per parificarsi all'euro un euro uguale 1936 la germania un marco uguale un euro l'ala pari col marco che era sotto le mille lire il valore del marco era intorno alle 970 non l'avevo già detto nessuno ha detto niente praticamente loro si sono raddoppiati il valore della loro moneta e nessuno ha detto nulla gli altri hanno dovuto essere costretti così poi loro spendono e spandono come vogliono vanno fuori fanno quello fanno quello che vogliono gli altri devono fare sacrifici per restare dentro quel 3% che se si sballa quel 3% addio quindi siamo in più siamo costretti perché hanno fatto l'embargo con la russia no e non si può vendere alla russia e allora l'italia è costretta a vendere le poche aziende che sono ancora italiane sono costrette a vendere in austria i loro prodotti perché poi gli austriaci li vendano ai russi perché siccome c'è richiesta l'italia è il top l'italia è il top c'è quindi io mi auguro che quando finisce questa ma siccome abbiamo dei governanti che sono eunuchi scusate l'espressione rispetto a chi c'era prima che magari un po le palle le usava noi abbiamo tutti si padrone si padrone si padrone si padrone se continuiamo si padrone io lo continuo a dire una volta eravamo alleati con vabbè era un pazzo era quello che volete ma eravamo alleati adesso siamo servi prima eravamo alleati col folle col pazzo che però dai racconti storici era uno che aveva sotto due cocomeri così potete dargli del pazzo potete dargli quello ma aveva sotto due cocomeri così e i generali delle ss quant'altro quando si trovava davanti a quello che era un pazzo un folle eccetera si sentivano sbattuti al muro solo dallo sguardo gente che comandava fior di di soldati si sentiva sbattuto al muro davanti al folle poi folle primo io a dirlo folle però c'aveva i coglioni e noi eravamo alleati col folle adesso siamo servi della culone inchiavabile signori miei abbiamo fatto un bel bel miglioramento quindi mi auguro che al termine di i nostri governanti tirano tirino un po fuori le palle facciano capire che l'italia può tranquillamente farà meno dell'europa e forse l'europa non potrà fare a meno dell'italia però ripeto io non ho voglia di fare politica adesso qua sono andato oltre perché vedo come ci stanno trattando ci stanno trattando veramente come come al solito italiani chitarra mandolino dire cosa fare altra incapaci becilli eccetera no imbecilli magari no questo non ce lo dicono meno male però comunque sempre lo stereotipo perché perché ci invidia non abbiamo tutto c'è quel bellissimo video che adesso spero di ritrovarlo così vado a recuperare tutto quello che abbiamo in italia non stato che ripete solo l'83 per cento del tutto e degli stati del di tutto il mondo siamo l'83 per cento abbiamo il 50 per cento più o meno della popolazione più o meno eppure è il top del top del top ma ci trattano a piscioni in faccia e invece ci sono le nazioni che ci apprezzano e che noi non possiamo perché proprio siamo ci bloccano comunque staremo a vedere quando si spera che presto finisca questo questo casino perché è brutto restare in casa veramente ti scleri non sai cosa fare meno male che io ho i video poi meno male un po di articoli per interlive mi vedo lo sci che è arretrato poi farò anche qualche video però se in casa h24 tutto il santo giorno è e quindi capisco tante persone che invece magari non hanno nemmeno un hobby non è esclerano giustamente perché non è semplice soprattutto i giovani soprattutto i giovani che sono abituati a uscire aperi cena aperitivo divertirsi questo e quell'altro per chi va a scuola magari è una pacchia tra virgolette perché comunque è vero che non vai a scuola ma contemporaneamente sei bloccato in casa e con mamma e papà magari anche che ti rompono le scatole soprattutto se a scuola non andavi bene ti mettono lì vai compiti recupera somaro quindi signori miei staremo a vedere però io mi auguro che al termine di questa cosa chi ci sarà se ci sarà ancora questo governo se faremo delle nuove elezioni vedremo cosa succederà tiri un attimino fuori i cocomeri e in europa si faccia sentire dica signori avete finito di romperci le palle di trattarci come se fossimo serie b serie c eccetera noi siamo serie a più 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 e quindi adesso decidiamo noi cosa fare e non c'è non vogliamo più essere comandati da voi se vi va bene così se no ce ne andiamo fuori dalle balle che tanto qualcuno che ci accoglie e con cui fare rapporti commerciali eccetera c'è e non abbiamo bisogno di voi mentre voi avete bisogno di noi questo vorrei sentire dai nostri politici ma temo che non lo sentiremo mai lo sento solo ogni tanto da dal partito che voto ma tanto sono parole dette al vento che tanto figurati quella lì quella lì ridono come quell'altro che rideva sul coronavirus e se l'è beccato a vera che so io vi saluto vi ringrazio ho già fatto troppa politica non mi piace lo sapete non però quando ce l'ho ce l'ho come se dis a milano quindi vi saluto e ci vediamo alla prossima ciao